Allora, questa è la vostra prima volta al Sicula, che ne pensate? Questa è la nostra prima volta qua in terra siciliana, siamo sbalorditi perché comunque è un festival, mi sembrava fantastico, bellissimo, tutto organizzato abbastanza bene, poi uno scenario molto simile alla nostra terra, in più ci sentiamo quasi a casa. Grazie a tutti. You can move, but you won't control, you try to escape, you are slave, how many people die of anger, how many people under pressure, how many of them don't find the freedom, I I did like a man's slave.